Ecco, da qui si vede tutto il campo, in fondo si vedono i pochi membri che sono rimasti nell'attività di questa sera, che è stata veramente bella, si vede il campo che noi abbiamo seminato e che è stato rasato a zero, stasera è stato fatto un bel lavoro, in fondo si vede il campo dove vogliamo creare la pista e fare il campo di atletica leggera e in fondo lì, oltre al fagiano che cammina di qua e di là, si vede la rotatoria, o meglio la scarpata della rotatoria che abbiamo pulito veramente bene stasera.